Musica Ben ritrovati con un nuovo appuntamento con l'informazione di TV oggi in apertura alla cronaca per rispondere all'allarme sicurezza e all'escalation di furti da oggi in tutta l'area a sud del Cilento. Sarà operativa una squadra di intervento operativo del decimo reggimento carabinieri Campania di Napoli inviata direttamente dal comando generale dell'arma dei carabinieri d'intesa con la prefettura di Salerno. Stamani un comitato straordinario per l'ordine e la sicurezza a Vallo della Lucania presieduto dal prefetto alla presenza dei sindaci e delle forze dell'ordine. Il primo servizio di oggi. Arrivano i rinforzi nel Cilento dopo gli eventi che hanno procurato allarme minando la sicurezza del territorio e dei cittadini. Annunciato questa mattina un piano straordinario che prevede oltre ai controlli ordinari l'impiego in tutta l'area a sud del Cilento di una squadra di intervento operativo del decimo reggimento carabinieri Campania di Napoli specializzata nel controllo del territorio e contrasto di forme organizzate di criminalità predatoria. E' stata inviata dal comando generale dell'arma dei carabinieri d'intesa con la prefettura della provincia di Salerno che stamani ha tenuto un comitato straordinario per l'ordine e la sicurezza a Vallo della Lucania preseduto dal massimo rappresentante di governo Francesco Esposito alla presenza dei sindaci del Cilento, del questore di Salerno e dei comandanti di carabinieri e guardia di finanza. Le forze dell'ordine non abbassano la guardia. I militari della CIO, la compagnia di intervento operativo dei carabinieri del decimo reggimento Campania affiancheranno i carabinieri delle stazioni e del nucleo operativo e radiomobile del reparto territoriale di Vallo della Lucania già impegnati nel contrasto di gruppi criminali, dediti e furti in abitazione così da incrementare l'attività di vigilanza nell'ampia fascia del territorio occidentano il controllo delle autovetture in transito e di persone sospette. Il piano straordinario con l'impiego dei carabinieri del CIO, personale specializzato in operazioni contro la criminalità che non utilizzano le normali uniforme in uso all'arma territoriale ma adoperano una particolare uniforme operativa sarà particolarmente mirato a prevenire i reati predatori, a cominciare proprio dai furti in casa che hanno interessato soprattutto alcuni comunici lentani. Al cittadino, come più volte sollecitato questa mattina nel corso del comitato straordinario per l'ordine e la sicurezza preseduto dal prefetto Francesco Esposito, si chiede esclusivamente di segnalare in tempo reale soltanto al numero di emergenza 112 la presenza di eventuali autovetture sospette, ovvero tentativi o furti subiti al fine di consentire un rapido intervento dei carabinieri e soprattutto l'attuazione di piani operativi a più ampio raggio in grado di intercettare eventuali persone in entrata nella zona o che cercano di allontanarsi dal territorio. Presumibilmente è un malore la causa della tragedia che si è consumata questa mattina al molo 3 gennaio del porto di Salerno un 49enne salernitano pescatore è stato trovato privo di vita a mare. Il servizio. È stato un pescatore nel cuore della notte intorno alle 3 ad avvistare il corpo privo di vita che galleggiava a pelo d'acqua. Da qui l'allarme e l'intervento della motovedetta della Guardia Costiera della Capitaneria di Porto di Salerno e poi i vigili del fuoco insieme per recuperare il corpo ormai privo di vita di un 49enne salernitano. Di digi le sue iniziali. Non sono ancora chiare le cause della morte ma sul corpo della vittima non sono stati trovati segni di violenza così come è emerso da un primo esame esterno. Per questo l'ipotesi più plausibile al vaglio degli inquirenti è di un possibile malore. Sulla sua morte sta indagando la squadra mobile di Salerno coordinata dal pubblico ministero Cardillo che ha disposto anche un'autopsia sul cadavere della vittima. Secondo una prima ricostruzione l'uomo si trovava a bordo del peschereccio che è di proprietà dello zio quando è caduto in acqua. La vittima è un pescatore e non si esclude anche un malore collegato al suo passato da tossicodipendente. Diversamente da alcune notizie che si erano diffuse e del tutto smentite è la notizia che il peschereccio sia stato posto sotto sequestro. Il cadavere è stato rinvenuto poco distante all'altezza dei pontili del circolo Canottieri-Irno. Le operazioni di recupero della Salma non sono state facili e complicate dalle cattive condizioni meteorologiche. I finanzieri hanno invece sequestrato in provincia di Avellino lo studio di un falso dentista di mercato San Severino. Nel corso di una serie di controlli contro l'evasione fiscale e l'abusivismo, i finanzieri hanno scoperto che l'uomo, un 58enne, esercitava illecitamente la professione di dentista. Esercitava abusivamente la professione di dentista senza aver mai conseguito la relativa laurea magistrale. Quanto hanno scoperto i finanzieri del comando provinciale di Avellino a Contrada, denunciando un 58enne di mercato San Severino che esercitava la professione medico-dontoiatrica senza aver mai conseguito la laurea né la specializzazione e l'iscrizione all'ordine dei medici chirurghi o dontoiatri. Le fiamme gialle del gruppo di Avellino, dirette dal Maggiore Papis, hanno individuato e sottoposto a sequestro uno studio dentistico. Nel corso dell'intervento i militari hanno constatato la presenza di un riunito dentistico di attrezzature e strumentazione specifica per la professione odontoiatrica e di altri materiali ad uso dentistico, farmaci, nonché documentazione varia. Tutto il materiale trovato nello studio, compresa la documentazione, è stato sequestrato dai militari che ora stanno cercando di ricostruire il volume d'affari dello studio abusivo per il recupero a tassazione degli introiti illecitamente accumulati e sottratti all'imposizione fiscale. L'attività di servizio delle fiamme gialle testimonia il costante impegno volto a garantire uguali condizioni di lavoro per tutti gli operatori sanitari in un'ottica di rispetto dei principi di libera concorrenza a tutela della gran parte dei professionisti onesti e rispettosi delle regole. E ci occupiamo ora di sanità, ci sono forti perplessità e timori da parte di lavoratori e sindacati sul futuro della riabilitazione dell'ospedale Giovanni da Procida di Via Calenda fermo per i lavori che dovranno trasformarlo in polo regionale della riabilitazione. Nel frattempo solo dieci posti e pochi spazi possono rappresentare la fuga presso i privati. Samani, un incontro promosso dalla CGL all'ospedale Ruggi da Ragona di Salerno. Mentre il cantiere va avanti muore la riabilitazione. Questa è la principale preoccupazione che ruota attorno al futuro dell'ospedale da Procida di Via Salvatore Calenda e che ha portato questa mattina gli operatori sanitari insieme al sindacato ad attuare un presidio di protesta dinanzi all'azienda ospedaliera universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi da Ragona. Con i lavori in corso sono infatti stati ridotti a dieci i posti letto destinati alla riabilitazione pubblica ma a essere stati notevolmente limitati sono anche gli spazi disponibili per fare riabilitazione. La protesta fa seguito ad un primo confronto con la direzione generale dove già i sindacati ebbero modo di esprimere le criticità evidenziate a partire dalla riduzione da 20 a 10 posti letto più 4 in dei hospital. A fronte anche del reparto ridotto il sindacato chiede di poter utilizzare l'ottavo piano della torre cardiologica di Salerno ma nessuna risposta è ancora arrivata. Il rischio è che in questi anni di attesa si finisca per disinvestire sul ruolo pubblico della riabilitazione sminuendo e diminuendo le attività ora presenti andando ad incoraggiare gli utenti verso il sistema di assistenza riabilitativa fornita dai privati. C'è un anno che stiamo chiedendo alla direzione strategica dell'azienda ospedaliera di attrezzare un reparto adeguato per mantenere questa attività. È un anno che non ci rispondono. È un anno che evitano il confronto sia con le organizzazioni sindacali e sia con i rappresentanti dei lavoratori che la sicurezza. Insomma fare da Procida un polo della riabilitazione regionale rischia di restare solo un sogno? Un sogno che però potrebbe non avverarsi nel senso che in questi due o tre anni di lavoro che si sono premessi di fare nel frattempo che cosa facciamo? Quali sono le garanzie che questi posti rimangano alla fine quando i lavori saranno terminati? Non lo sappiamo. Quindi garantiamo adesso l'assistenza ai cittadini sul territorio, in tutti i territori nel senso che i posti devono essere già dati adesso e poi magari li trasferiamo al nuovo da Procida con tutti gli onori e tutte le garanzie che ci potranno dare. Ma le garanzie le devono dare già adesso, con i luoghi già adesso che devono essere fatti in modo idoneo. Noi stiamo chiedendo all'azienda di intervenire per allargare il grado di assistenza che l'azienda dovrà garantire negli spazi di via San Leonardo sostituendo quelli del da Procida. Il ottavo piano della torre cardiologica è un'ipotesi percorribile? È un'ipotesi percorribile perché sono stanze affidate a studi medici o per gli specializzanti ma per noi tutto è percorribile fin quando l'azienda si rendere conto c'è bisogno di non contrarre l'offerta perché i lavori dureranno 2, 3, 4 anni, non lo sappiamo quindi in questi anni non bisogna contrarre l'offerta e soprattutto non bisogna favorire un altro mercato perché poi ci ritroveremo con un nuovo polo riabilitativo che sicuramente sarà un'eccellenza però con un mercato completamente contratto dal punto di vista pubblico e questo non ce lo possiamo permettere. Si cercano nuovi atleti da inserire negli allenamenti per il campionato in corso ma si punta a creare per il prossimo anno una scuola calcio per persone con e senza disabilità è l'impegno assunto questa mattina dalla fondazione Anfas di Salerno e dalla polisportiva Baronissi nel corso della conferenza stampa alla presenza degli atleti che stanno partecipando al campionato regionale il calcio è di tutti nell'ambito della competizione nazionale organizzata dalla divisione calcio parolimpica e sperimentale della FIGC che vede in campo persone con disabilità Nato come strumento per l'integrazione sociale delle persone con disabilità l'uso dello sport è diventato una vera e propria sfida calcistica per la fondazione Anfas Salerno Giovanni Caressa Ollus che in collaborazione con l'ASD polisportiva Baronissi ha iscritto e sta partecipando al campionato regionale il calcio è di tutti una competizione organizzata dalla divisione calcio parolimpico sperimentale della FIGC che vede in campo atleti con disabilità oggi in una conferenza stampa la presentazione dell'iniziativa è l'in bocca al lupo per gli speciali atleti l'Anfas è alla ricerca di nuovi atleti da inserire negli allenamenti ma coltiva anche un sogno nel cassetto Salvatore Parisi come ha detto nel corso della conferenza stampa ha un'ulteriore occasione per mostrare come lo sport diventa una forma di integrazione qua si insegnano anche a rispettare le regole attraverso il campo eh sì perché partecipando ad un campionato vero le regole deve insegnarle è un momento veramente che parte un po' da lontano noi abbiamo fatto un'esperienza nostra interna abbiamo preparato la squadra già da qualche anno poi si è aperta questa possibilità che abbiamo colto col presidente Siniscalchi di partecipare ad un campionato vero ed è un'esperienza straordinaria per i nostri ragazzi perché vivono il momento pre-gara anche post-gara abbiamo sentito anche grande entusiasmo certo, c'è la tensione vera della gara insomma quindi adesso dobbiamo capire perché è un campionato comunque dove è vero l'inclusione ma nessuno vuol perdere quindi noi neanche cercheremo nei mesi prossimi anche di organizzarci dal punto di vista proprio atletico agonistico eh abbiamo detto col presidente vorremmo vorremmo cercare di mettere su una una scuola calcio insomma per quelle persone con disabilità giovani in modo che possano poi fare da bacino e fare e creare la squadra negli anni prossimi competitiva di persone con disabilità che... hai avuto l'esempio dell'ASD Baronis? assolutamente sì, assolutamente sì io sono contento che si sia aperta questa possibilità anche in una eh in una cittadina insomma dove ha sempre visto protagonista insomma l'ANFAS, la fondazione con molte famiglie quindi portare la cultura delle persone con disabilità e della disabilità anche fuori dalla città di Salerno per noi è un momento straordinario quella che era iniziata come un gioco come una forma di ulteriore integrazione per aiutare questi ragazzi è diventato una vera e propria sfida sportiva assolutamente sì, abbiamo colto l'invito della federazione e ci siamo iscritti al campionato paralimpico della FIGC una sfida importante che per noi uomini di sport non fa altro che aumentare la voglia di superare le barriere e di portare questi ragazzi a divertirsi con noi sui campi di tutta la regione Campania il Presidente Parisi ha aperto il cassetto dei sogni dicendo arrivare proprio alla creazione di una vera e propria scuola calcio assolutamente sì, col Presidente siamo al lavoro per lanciare già dall'anno prossimo una scuola calcio che possa accogliere i bambini disabili per accompagnarli nel loro percorso di crescita attraverso lo sport e i sani valori che questa disciplina sportiva riesce a trasmettere Maurizio sei pronto a questa sfida importante? Speriamo che quest'anno almeno una partita possiamo vincere Ma chi deve segnare in questa squadra? Uno di tutte e due Spero che abbiamo altri giocatori in campo però bisogna fare una squadra nuova di Baronetti perché se no con noi due non ce la faccio In bocca al lupo come si dice? In bocca al lupo, crepi il lupo La Regione Campania ha varato un ambizioso programma di investimenti in edilizia ospedaliera e attrezzature sanitarie destinando una somma di oltre 2 miliardi di euro per potenziare le strutture mediche del territorio regionale L'annuncio proveniente dal governatore della Campania De Luca ha suscitato il plauso da parte di Tommaso Pellegrino capogruppo di Italia Viva in Consiglio regionale che garantisce di vigilare su quanto è stato annunciato Sentiamo La Regione Campania ha approvato i programmi per l'edilizia ospedaliera con un investimento di oltre 2 miliardi di euro destinati a strutture ed attrezzature sanitarie per l'intero territorio regionale Dopo l'annuncio fatto dal Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca enorme soddisfazione è stata espressa da Tommaso Pellegrino capogruppo di Italia Viva in Consiglio regionale Un impegno finanziario così significativo ha dichiarato Pellegrino fortemente voluto dal governatore condiviso dall'intero Consiglio regionale era atteso da anni e rappresenta un passo fondamentale per migliorare il sistema sanitario Molte sono le risorse destinate alle strutture sanitarie della provincia di Salerno in particolare 5 milioni andranno all'ospedale di Polla Luigi Curto una struttura indispensabile per far fronte al bisogno di salute di un territorio troppo spesso penalizzato Il capogruppo d'Italia Viva ha espresso allo stesso tempo la necessità di vigilare attentamente sulla tempestiva realizzazione di queste importanti infrastrutture anche per scongiurare il rischio di ostacoli burocratici che potrebbero rallentare i lavori Ottimo il lavoro di programmazione della Regione Campania ha continuato il Consigliere Pellegrino al quale dobbiamo far seguire un'esecuzione altrettanto rapida ed efficace per evitare di perdere opportunità importanti come nel caso dell'ospedale di Comunità di Sant'Arsenio dove mi sono recato nei giorni scorsi per un sopralluogo il reparto dedicato alla radiologia necessita di interventi strutturali rapidi affinché possa accogliere un nuovo e moderno mammografo che rappresenterà un importante e particolarmente utile servizio per il territorio del distretto sanitario 72 del Vallo di Diano così come avverrà anche per il territorio di Vallo della Lucania destinatario di un ulteriore mammografo acquistati dall'Asla di Salerno grazie ai fondi del PNRR una importante opportunità per garantire una diagnostica all'avanguardia anche nei territori delle aree interne ha concluso il Consigliere regionale di Italia Viva Tommaso Pellegrino è un bilancio soprattutto di fronde di rami e palme piccoli alberi caduti quello che racconta la notte appena trascorsa nel Comune Capoluogo alle prese con l'emergenza maltempo l'allerta arancione emanata dalla protezione civile regionale che pure ha fatto registrare un violento nubrifaggio accompagnato dal vento a Salerno non sembra comunque per fortuna aver causato grossi disagi se non per alcuni alberi caduti diversamente da quanto accaduto invece in provincia di Salerno sia nell'agro che nel Cilento uno dei maggiori problemi è stato causato da un tombino che si è scoperchiato su via lungomare Trieste rendendo necessario l'intervento dei tecnici comunali che hanno transennato l'area un albero di piccole dimensioni invece caduto nei prezzi del Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno diversi anche i rami che sono stati prontamente rimossi e che avevano invaso ed ostruito la carreggiata e continueremo a sfogliare insieme il nostro telegiornale parleremo di sport oggi è il giorno di Liverani ma ne parliamo tra pochissimo dopo la pubblicità e non prima di aver visto insieme cosa ci riservano le previsioni del tempo in collaborazione con De Filippis Pneumatici Centro Driver Pirelli Vendita Previsioni per domani al mattino sulle coste bel tempo con cieli quasi sereni in montagna molte nubi con deboli piovigini nel pomeriggio sulle coste nubi e schiarite con possibili piovaschi in montagna cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita Previsioni del tempo fornite da 3B Meteo e siamo alla pagina dello sport oggi è il giorno di Liverani dopo la sconfitta interna con Lempoli la Salernitana ha deciso per la seconda svolta tecnica della stagione Fabio Liverani subentra a Dinzaghi che a sua volta aveva rilevato Paolo Sosa ad ottobre il tecnico ex Lecce e Caglia ritorna in A dopo circa 4 anni lo ha scelto il DG Sabatini il suo grande stimatore fin da quando era un apprezzato centrocampista il servizio Fabio Liverani è il terzo allenatore stagionale della Salernitana 48 anni da compiere un passato importante da calciatore di Lazio, Palermo e Fiorentina ma anche della nazionale Liverani subentra a Filippo Inzaghi a sua volta sostituto di Paolo Sosa il portoghese fu esonerato all'indomani della sconfitta di Monza e chiuse la sua esperienza in Granata con 3 punti in 8 gare Inzaghi ha totalizzato 10 punti in 16 giornate sporcando la sua media proprio quando si pensava che la situazione potesse migliorare dopo il pareggio col Milan nella vittoria di Verona la Salernitana era sì ultima ma era anche la più in forma della zona bassa della classifica infortuni, assenze per altri motivi si vede alla Coppa d'Africa e le squalifiche ma anche un mercato condizionato nei tempi e nelle scelte dall'indice di liquidità hanno fatto sì che la Salernitana perdesse terreno a gennaio mese in cui ha perso 4 partite su 4 e sempre per 2-1 errori dei singoli come i rigori clamorosi causati da Lovato e Maggiore o i disimpegni errati di due mesi contro Juve e Napoli al San Paolo non fu certo da meno l'intervento avventato di Fazio che cos'è il rigore del pari azzurro ma anche la serataccia di Pellegrino nel finale della gara con l'Empoli alcune scelte compiute in panchina hanno condannato Inzaghi che nel complesso ha ridato condizioni atletiche in un senso di unità al gruppo ma non è riuscito a dare alla squadra una precisa direzione tattica fallendo ogni volta l'appuntamento con la vittoria quando la Salernitana avrebbe dovuto fare la partita infatti sono emersi limiti e carenze in parte da attribuirsi alla Rosa ma dall'altra riconducibili anche alla mentalità dell'allenatore piacentino Inzaghi ha stretto un rapporto solido con Iervolino da cui ha ottenuto sostegno ed anche qualche acquisto sul mercato ad esempio Perozzi ci ha messo impegno, cuore, passione ma l'impresa salvezza si è rivelata troppo grande rispetto alla sua visione del calcio ora tocca a Fabio Liverani 48 anni da compiere, un trascorso importante da calciatore e pupillo di Walter Sabatini che lo apprezzava da cervello del centrocampo e lo ha seguito anche nella sua parabola da tecnico che ha conosciuto pitti impromettenti a Terni e Lecce prima di precipitare a Parma a Cagliari l'ultima esperienza in panchina ora la possibilità di ritornare in Serie A con la Salernitana dovrà compiere una vera impresa puntandosi idee, gioche e coraggio andando anche oltre i limiti della Rosa che sebbene non in maniera del tutto logica ed omogenea spicca la mancanza di regista e il livello ne ha sempre avuto nelle sue squadre costruttori di gioco è uscita rinforzata per esperienza in alcuni ruoli e qualità in altri dall'ultimo difficoltoso mercato dare un assetto ben preciso sarà il primo passo per tentare la risalita venerdice l'Inter e forse non poteva esserci battito migliore per un attore che vuole rilanciarsi e che ha accettato una sfida stimolante e sicuramente impegnativa Ed in tarda mattinata nella sala stampa dello stadio Areichi Fabio Liverani ha tenuto la conferenza stampa di presentazione 48 anni, un passato importante da calciatore stagioni importanti anche da allenatori Liverani riparte da Salerno dopo l'esperienza di Cagliari con la voglia di proporre quel calcio che lo aveva fatto apprezzare a Terni e a Lecce in particolare Sentiamo Posso dire come è il mio tempo quando non sono in una squadra quindi mediamente io e lo staff cerchiamo di avere un'idea su tutte le squadre durante il campionato finché uno non viene chiamato o non riprende l'attività E quando viene chiamato è a Parigi Sì, diciamo questo, non mi ero mosso per sette mesi Ai primi due giorni ero appena sbarcato e quindi il direttore siccome ha la palla di vetro mi ha chiamato appena ero sbarcato a Parigi e siamo ritornati veloci No, la squadra l'ho vista è evidente che ha avuto un pochino di cambiamento da luglio con il mercato di gennaio Sicuramente come ha detto il direttore non c'è tanto tempo e c'è la volontà di creare e di costruire qualcosa partita dopo partita senza darci troppe scadenze a lungo termine senza fare tabelle credo che noi oggi dobbiamo pensare a preparare a giocare e diventare una squadra che ha dei valori individuali sicuramente per me medio-alti individualmente ma che a oggi come collettivo ha espresso poco e quindi dobbiamo diventare per forza in poco tempo una squadra però ci sono le qualità e quindi se oggi io ho accettato a prescindere tutta la storia che in questo momento mi ha anche emozionato rivedere i 30 anni col direttore a prescindere questo ho accettato perché a prescindere sempre le percentualità del direttore credo che si possa ambire ad avvicinare le squadre davanti a noi e lo credo fermamente e quindi per questo ho accettato questa sfida ma non credo che sia un problema prendere gol o farne pochi non credo che sia soltanto una questione di modulo o di numeri credo che sia nella mentalità di avere la percezione del pericolo quando gli altri giocano l'avere la percezione del pericolo quando stai giocando tu nella metà campo avversaria e soprattutto avere come ha detto il direttore quel pizzico di follia ad andare a riempire l'area di rigore a fare fatica a voler fare fatica oggi le partite si vincono per un calcio da fermo un calcio d'angolo o per la volontà di andare a riempire l'area di rigore avversaria per fare gol ma la stessa fame da riempire e proteggere la tua e credo che sia più una mentalità collettiva di squadra che di numeri o di moduli In una nota il centro di coordinamento Salernitana Club saluta il nuovo tecnico dei Granata benvenuto mister Liverani tocca a lei l'impresa della salvezza e noi saremo sempre accanto alla squadra scrivono i tifosi stiamo vivendo un periodo davvero buio scrive il direttivo del centro di coordinamento Salernitana Club ma nello stesso tempo nessuno di noi ha perso la speranza di poter rivedere in campo la grinta il cuore e la forza necessari per conquistare una salvezza che ad oggi risulta essere difficilissima questa città e questa tifoseria sapranno essere sempre generosi di affetto e passione il neotecnico se ne accorgerà subito a lui chiediamo solo di condurre la Salernitana in questo finale di campionato con la forza e la dignità che contraddistinguono la nostra tifoseria inseguiamo insieme l'utopia ce la possiamo fare questa la chiusa della nota del centro di coordinamento Salernitana Club e con quest'ultima notizia si chiude qui questa edizione del nostro telegiornale al momento non ci sono ulteriori aggiornamenti vi rimando alle prossime edizioni grazie come sempre per averci scelto arrivederci vuoi rivedere questo programma? visita il nostro sito tvogisalerno.it e clicca su tvogiondemand grazie a tutti grazie a tutti